Hello bella gente e benvenuti in questo mio video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi andremo a fare la reaction ai video che ho ritrovato sulla mia vecchia videocamera Quindi se volete vederne delle belle ovviamente vi invito a rimanere fino alla fine Vi auguro una buona visione Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video iscriviti al canale e attiva la campanellina Per restare sempre aggiornato per i prossimi video Ok ragazzi siamo sul mio desktop per passare alla reaction di questi video Ovviamente vi ricordo che sono video registrati nel lontano 2013 o comunque massimo 2017 Quindi sì, ero molto più piccola e non avevo le stesse capacità in editing o comunque di parlantina che invece adesso Quindi ci divertiremo parecchio Passiamo subito al primo video E direi di iniziare proprio da questo video Ok, facciamolo partire Ciao Va bene Ok, ma il senso di questo video è di 7 secondi Qual è esattamente? Ciao Che c***o E questo è il primo eh Ok, questo già è più lungo E mi sa che l'ho registrato nella stessa giornata di quell'altro Salve a tutti ragazzi In questo nuovo video vi farò vedere Vi presenterò Un gioco Un gioco E più precisamente Un retro di Abbo Che penso che dovreste conoscere E questo retro si chiama Special Hotel Metterò il link in descrizione Vabbè, iniziamo Link in descrizione Scrizione Ok, quello purtroppo è un problema di noi napoletani con le S Non ci possiamo fare niente Anche se credo che forse dovrebbe essere diminuita questa cosa Almeno io non ci faccio più caso Fatemi sapere voi se invece ci fate caso A questa cosa, insomma, delle S Comunque fantastico Qui appunto sto facendo questo video Di questo retro server di Abbo Su cui giocavo E su cui ci perdevo praticamente le giornate E se non mi sbaglio Dopo ci sono anche delle clip di questo retro server Quindi andiamola ad aprire Ok Prima di tutto Se non avete un account Registratevi Io già ce l'ho Ovviamente partivano le pubblicità Perché mi sembra giusto Ma poi perché non registravo lo schermo direttamente? No, dovevo riprendere da fuori Vabbè Davvero? But if you close your eyes Sì, praticamente questo retro server Aveva la radio Che tu ogni volta che entravi Partiva la musica Io giustamente non è che la stoppavo No Continuavo come se nulla fosse Qua stavo cercando la stanza Giustamente Lo zoom addirittura Wow Aspetta Qua aggiusto l'inquadratura Per far vedere che io sono professionale Ovviamente Dai ce la facciamo ad entrare nella stanza Prima che finisca il video? Vediamo questa villa Vediamo questa villa Cos'è a caso? Ed eccoci ragazzi Siamo entrati Mamma mia che villa È arredata benissimo Devo dire Comunque da notare il nome Mi chiamavo DJRNB Non so per quale ignoto motivo Ma praticamente su tutti i giochi A cui giocavo Comunque I retro di hub A cui ero registrata Mi chiamavo sempre DJRNB E se non sbaglio anche su Minecraft E se non sbaglio anche su Minecraft Ciao Ma quando mai? Ma quando mai? Comunque Questa è una mia stanza Bellissima devo dire Arredatissima Vabbè L'ho appena creata Sarà il mio nuovo studio Per le conferenze su special Arrediamola Ok Quindi qua praticamente Ho fatto vedere Tutto il catalogo E il retro server E l'ho arredata Ovviamente passo avanti Perché se vedo tutto il video Di 8 minuti Questo video di action Addiventa Wow Addiventa Ma da dove vengo? Diventa Di 30 anni Questo è Come sto andando avanti? Ci conviene parlare Ma davvero? Tra l'altro queste erano Tutte le stanze che avevo fatto Tra la cui Villa Boiano Interno Villa Boiano Che andavo proprio ferissima Di quella villa Perché mi piaceva un botto Poi c'erano i rari Che praticamente Erano delle cose speciali Che potevi ottenere Con Magari vincendo A dei minigiochi Che si facevano Sui retro server Eccetera Erano fighissime Ok Qua stavo cambiando stanza Vediamo un po' Sì Sono entrata in questo ristorante Ovviamente C'erano tutte le stanze Poi delle altre persone Su cui tu Potevi andare E potevi giocare con loro Ok Molto carino Però direi di Passare oltre LOL Cioè Magari Sarebbe 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 Ottimo Questo E' recentissimo Come video Magari Di 2-3 anni fa Però Già potete Sentire Il cambiamento Comunque Nella mia voce Eccetera Ciao a tutti Mi piace di youtube Che c'è comunque Sto un nuovo video E Boh Oggi Di niente Più o meno Lei Ok Praticamente Mi sa che Questi clip Erano Video Di me Che provavo a registrare Con quella videocamera Per magari Utilizzarla Per il youtube Però Non sono andata Affatto a buon fine A quanto vedo Mi prego Non fate domande Questo Era il periodo In cui andava di moda La pubblicità Dello Iomino Quel tipo di yogurt E quindi Boh Questa era la sigla Che cantavano tutti Questo Era il periodo Delle medie Ragazzi Probabilmente Sai O prima O terza media O primo superiore Comunque intorno a quel periodo Che è fantastico Comunque Devo dire Ciao a tutti Mi sentite tutto Perché ci con questo Nuovo video E niente Mattia è spastico Mattia è proprio Spastico Oddio Com'era piccolo Mio fratello Tra l'altro Questa Cioè Stiamo in questa Stanza qui Però Era prima che Cambiassimo Mobili E tutto È fantastico Cacchio È un attacco Ma perché C'è un hello kitty Gigante La terra Comunque sì L'avevo ancora Il vecchio computer Quello fisso Che vi dicevo Che non serviva a niente Ok Questo E questo Inutile che li apro Perché sono prove di registrazione Che stava facendo mia mamma Non so per quale In automotivo E quindi si vede solo La cucina Vuota Però Questi ultimi tre Li dobbiamo aprire Assolutamente Ok Forse Ho risolto Il problema Videocamera Ho risolto Il problema Videocamera Ma dove Ma perché Ma quando mai Tra l'altro Questi sono ancora Più recenti Perché avevamo già I mobili nuovi Ma non è risolto niente Fidati Stai ancora a zero Per il livello videocamera Tanto mamma Lo stesso non la uso Quindi me la prendo io Casomai è buona Sto facendo la prova video audio Come sono carina Allora Il problema È sempre quello Della luce Perché non si vede manco Il cazzo Senza la luce accesa Quindi ok In teoria Ce l'ho fatta Boh Vediamo un po' Sembra abbastanza Dettagliata Dai Se può fare Se può fare Stop Dove si stoppa Sta cosa Sembra abbastanza Dettagliata Vorrei dire Ma poi Due Che capelli avevo E tre Perché quel maioncino Con un cuore enorme Ma cos'è Cos'è Stai muren Ce l'ho Davvero Proprietà Non ho idea Non ho idea Non ho idea Non ho scritto Neanche io ne ho idea Dettagli 720 Per 576 Manco 720 Ah ok Qui mi sa che era Dopo aver registrato Quell'altra clip Che stavo facendo Le prove Per vedere Se appunto La potevo utilizzare O meno per youtube E mi sono accorta Che faceva altamente cagare Ottimo Ok Sta caricando L'ultima clip Non ha caricato L'ultima clip Era praticamente Un coso nero Va bene In teoria Adesso ci sarebbero I video Con la lego Da guardare Però io Già li ho visti Già gli ho dato un'occhiata Quindi non sarà Il primo impatto Proprio Però ragazzi Ve li lascio Perché ovviamente Sono Fanno parte Della mia storia Di come ho iniziato Quindi ci vuole Signori e signori Vi presentiamo Il TG Di Legoland Adesso Vi farò vedere Alcune notizie Oggi È una giornata Davvero stupenda Per giocare All'aria aperta E adesso Vi mostro Il servizio Della mia Della Della mia Conduttrice Si chiama Marlene A te la linea Marlene Ok Non so perché Marlene Con tutti i nomi Esistenti E non so neanche Perché non riuscivo A pronunciare Coconduttrice Va bene Ovviamente pieno di rumori E voci in sottofondo Lo sfondo grigio Che secondo me Doveva essere un cielo Ma Quelli sono tutti altri dettagli E pensare che io Queste cose le caricavo Anche su youtube Il servizio Che si intitola Il giorno perfetto Per giocare All'aria aperta Adesso Vi mostrerò Cosa stanno facendo Come Un gioco Che si chiama La caccia all'urso E ci sta un orso Che fa delle esibizioni Per il pubblico Ora Vi mostrerò Questo servizio Aspettate un momento Il tempo che ci arrivo E riprenderò Il telegiornale Telegiornale Io non ho parole Che poi ovviamente Io queste cose Me le inventavo Al momento Non è che c'è una cosa scritta Una storia Da portare avanti No niente Le inventavo Buttala lì così Eccoci qui Eccoci qui amici Come potete ben vedere Mi trovo Allo spettacolo Di Legoland Alle mie spalle C'è l'urso Che sta Facendo l'esibizione Beh Fa un po' paura Perché È all'aria aperta Vabbè Comunque Questi sono I spettatori Ce ne sono Davvero molti Perché Questo orso È davvero Molto bravo Adesso Passo la linea Allo studio A dopo Grazie Ok Qua Probabilmente Non riuscivo a stoppare La registrazione Grazie Minuto di pausa A tutti E poi continuavo Con un'altra parola Fantastico Tra l'altro Avete visto Come ho usato bene Lo zoom Per zoomare Sulla inviata speciale Il TG Modestamente Chicche di editing Level Over 9000 E quello Era il servizio Di Marlen Spero vi sia piaciuto Adesso Torneremo Torneremo domani Con il TG Delle 10 Adesso Torneremo domani Ottimo L'italiano E via Allo mani Ultima clip E vediamo Come abbiamo Concluso Questo video Finalmente Il TG È finito Vabbè Però almeno Mi ha dato Una buona notizia Ha detto Che è una bellissima Giornata di sole Quindi adesso Posso andare All'aria aperta Ok Fantastico A parte mia sorella Eccomi In sottofondo Oh mio fratello Non lo so Chi dei due fossi Comunque Magnifico Raga Bellissimo E ne ho Degli altri Perché io Ho un google drive Pieno Ma pieno Di Miei primi video Sulla Su quali ho già fatto Una reaction Ma tanti anni fa Quindi non è che Me li ricordo tutti Magari In futuro Potrei pensare Di portarlo Ok ragazzi Questo è stato il video Devo dire Che mi sono divertita Tantissimo A registrarlo Anche se ho avuto Dei problemi iniziali Ma poi Fortunatamente Ho risolto tutto E boh Fatemi sapere Se vorreste vedere Altri video del genere Perché ragazzi Secondo me C'è da divertirsi E niente Io spero che questo video Ti sia piaciuto E se cos'è stato Mi lascia un bel pollicione In su Commentare Iscrivetevi al canale Se ancora l'hai fatto E noi ci vediamo Prossimamente Con un prossimo video Sempre qua sul canale Bella